Vai vai Chi è l'arrestato oggi? Gli arrestati di oggi Alessandro Proto Vediamo chi è Per manipolazione di informazioni del mercato L'azionista del Corriere della Sera e della Toz Oggi Poi vediamo chi altro hanno arrestato oggi Hanno arrestato Angelo Rizzoli Banca rotta da 30 milioni di euro Figlio dell'editore Rizzoli Poi vediamo chi altro c'è Il sindaco di Cagliari Di Comunione e Liberazione Per Tangenti Per la costruzione di uno stadio Arrestato lui E un assessore Vediamo chi altro hanno arrestato oggi Pistorius ma questo è per omicidio A Monte dei Paschi di Siena L'ex direttore finanziario Del Monte dei Paschi di Siena Un altro arrestato del giorno Hanno arrestato anche Bob Kennedy Junior Un corriere di droga Un corriere di droga Allora Grazie Grazie Grazie